La campagna resta in zona rossa fino al 3 dicembre, cala l'indice RT attesa per le nuove valutazioni. A Limatola, nello stabilimento che rifornisce l'ossigeno alle ASL, si cerca di contrastare l'emergenza con bombole più capienti. Quattro indagati per le violenze del 25 ottobre a Salerno, quando furono esplose bombe e carta sotto l'abitazione del presidente De Luca. Al San Paolo continua il pellegrinaggio per ricordare Maradona, in Serie A con il Benevento impegnato alle 18 contro la Juve, un minuto di silenzio e stop al decimo minuto. Domani sera Napoli-Roma. Buon pomeriggio dunque, per ora campagna ancora zona rossa, poi si valuterà, certo c'è.